Ci troviamo in una forra della Valcellina sotto la vecchia strada. Si può vedere la galleria della vecchia strada e da questo sperone qua un ragazzo cercherà di tuffarsi nella pozza che sto inquadrando e l'altezza da cui si tufferà dovrebbero essere circa 15 metri. Eccolo là che si sta approssimando allo sperone per prepararsi a fare il tuffo. Ti salta sopra, ti salta sulla schiena. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, adesso sta per saltare dallo sperone. Quando vuoi. Eccezionale. Eccezionale. E ce l'ho fatta, perfetto. Un tuffo davvero temerario. Perfetto. E' venuto bene. E' venuto bene. E' venuto bene. E' venuto bene. Tutto a posto? Eh? Tutto ok? Ah, un po' il pazzo. No, non! E' venuta bene. E' venuto bene. No, è meglio. E' venuto bene. Grazie a tutti.